È un momento molto bello per TV Radicale perché andremo a trattare un tema molto, molto, davvero molto importante, quello della disabilità, con uno speciale condotto appunto da Marco Marchese, il cui titolo è Laura per tutti. Così Laura Raffelli, nonostante la società respinga con forza la disabilità, vive, lotta, crea, fa politica e si occupa del sociale. Conduce per l'appunto Marco Marchese, ed è proprio Marco Marchese che andiamo a chiamare via Skype. Dovrebbe essere in linea Marco, quindi tra un po' dovrebbe risponderci. Intanto ricordo, ecco Marco è già in linea. Ciao Marco, come stai? Ecco favoriamo l'ingresso al video anche da parte di Marco. Come stai? Reduce dalla gloriosa impresa di Chianciano che veramente ha dato alla nostra associazione diversi fiori all'occhiello. È stato fatto un notevolissimo lavoro che ha permesso a TV Radicale, tra l'altro con l'autofinanziamento e il merchandising, di ricoprire veramente gran parte, anzi totalmente, le uscite che avevamo avuto precedentemente. Ma al di là di questo, TV Radicale è stata molto ben accolta, un volume di materiale di produzione che siete stati capaci di determinare, sicuramente non fa altro che nobilitare TV Radicale. Ecco, quindi Marco, io mi sono permesso di fare questa piccola introduzione perché erano dovuti fare questi complimenti. Adesso io avrei bisogno di sapere qual è esattamente a Blinsight. Quindi aggiungiamo alla conferenza... Io intanto aggiusto alle mie spalle il nostro logo perché lo copro con la mia mole imponente. Oh, perfetto. Adesso dovrebbe vedersi bene. Perfetto. Allora, vediamo, io ho provato ad aggiungere alla conferenza Laura Raffelli. Aspetta un attimo. Sì, Raffelli, Raffelli. L'ho aggiunta alla conferenza però non riesco a raggiungerla, non riesco a capire come mai. Vabbè, sono gli inconvenienti della diretta ragazzi questi. Allora... Sì, poi Skype ogni tanto ci crea, ci fa sempre questi scherzetti. Allora, Marco, purtroppo devo... Laura... Torniamo un attimo nello studio di Lecce. Chiudo la comunicazione con Marco e provo a richiamare per prima appunto Laura Raffelli. Vediamo se così ci risolve il problema Skype. Aggiungiamo contemporaneamente anche Marco Marchese alla conferenza. Scusate per questi piccoli inconvenienti tecnici ma possono capitare. Ciao Laura, sono Roberto Moncuso, presidente di TV Radicale. Ci sento? Piacere mio, sicuramente è un piacere mio quello di conoscerti e di farti conoscere, di far conoscere la tua esperienza di vita, le tue esperienze al mondo di TV Radicale. Allora, aggiungiamo Marco Marchese perché avevamo avuto problemi ad aggiungerlo alla conferenza e adesso dovremmo riuscire a risolvere. Ci mandi il video, Laura? Prego Ci puoi mandare il segnale video? Sì, come devo fare? Allora, c'è un'icona in basso nella finestra di Skype, però dice che c'è una piccola telecamerina e c'è scritto avvio il video. Sì, ma forse Roberto è meglio che Laura la richiami perché lei legge praticamente Skype attraverso... Io sono cieca, Roberto. Ah, mi devi scusare Laura, questo non lo sapevo perché non ti lo so. Allora, senti, facciamo così, ti richiamo io in videochiamata e poi pensi tu a fare tutto? Eh, no, perché ti devo aggiungere io la... Sì, vabbè, ok, allora mi aggiungi tu, allora. Facciamo così, mi chiami tu, va bene? Eh, eh, ah, perché poi dovrei aggiungere io Marco eventualmente. No, no, poi lo aggiungo io Marco, non è un problema. Allora, chiudo e ti richiamo in videochiamata che forse è meglio, va bene? Va benissimo, ti ringrazio, Laura, ciao. Ciao. Ecco, adesso vediamo, dovremmo ricevere da qui a poco la chiamata proprio da Laura Raffelli. Tanto ricordo che questo appuntamento, Laura per tutti, durerà un'ora fino alle 18.30. Alle 18.30 è lo spazio controcorrente a cura del dottor Marco Belelli. Primare in casa radicale a cura del dottor Marco Belelli, segretario dell'Associazione Rep di Genova e Savona. Conduce Gianni Corascione. Alle 19.00 lo spazio Certi Diritti, la conversazione con Lavinia Durantini, attivista dell'Eos Archie Gay di Cosenza. E a seguire Marco Marchese aprirà una finestra sul mondo dell'informazione attraverso l'iniziativa Informerai, promossa dall'Associazione Certi Diritti. Condurrà questo spazio di un'ora, dalle 19.20, Riccardo Cristiano. Alle 20.00 un appuntamento che segnalo, perché veramente, secondo me sarà, anche gli altri lo sono sicuramente, però, magari per chi è interessato alle nuove tecnologie e alle battaglie per i diritti digitali, diciamo così, abbiamo lo spazio Agora Digitale. La conversazione che farò io con Luca Nicotra, che è il segretario dell'Associazione Radicale Agora Digitale. Quindi mi raccomando, non mancate le ore lenti, una mezz'ora veramente di immersione nelle nuove tecnologie. Intanto non arriva la chiamata di Laura. Andiamo avanti. Alle 20.30 i conti in tasca. Quali le strade da interprendere per uscire dalla crisi economica che attanaglia il paese? Conversazione di Gianni Coracione con Luigi Mazzotta. Io non ricevo chiamate né comunicazioni da Laura, forse è il caso di provare a chiamarla così nuovamente. Altrimenti la facciamo in solo audio, la trasmissione. Vediamo se Laura risponde. Tendiamo la sua risposta. Intanto aggiungiamo anche... No, Laura deve avere dei problemi con il computer evidentemente in questo momento. Allora, ecco Laura, perfetto. Ciao Laura, stai stai... Roberto, ci sei? Perfettamente. Mi si vede? Assolutamente sì. Adesso aggiungiamo alla conferenza anche Marco Marchese. Il video va perfettamente. Quindi tutto a poco. Mi devo un attimo mettere occupata io però, scusate. Sì, prego. Marco ci sei? Sì, sì, vi sento perfettamente. Ho ripilogato un po' il palinzesto fino a questa sera e nel frattempo. Bene ragazzi, vi faccio entrare in video e vi lascio la parola a Marco Marchese che condurrà questo spazio. Ricordo il titolo Laura per tutti. Così, Laura Raffelli, nonostante la società respinga con forza la disabilità, vive, lotta, crea, fa politica e si occupa del sociale. Conduce Marco Marchese. A quale do immediatamente la parola. Grazie Roberto, grazie e un benvenuto, un abbraccio anche a Laura. Con Laura ci conosciamo da qualche anno, è stata molto attiva, iscritta a Calabria Radicale, è stata anche dirigente di Calabria Radicale. Laura, che è una persona che non ama il politicamente corretto, è cieca, per cui non ama tanti giri di parole ed è una persona che, nonostante la sua grave disabilità, è assolutamente un vulcano. Un vulcano perché, innanzitutto, è la presidente della Blunt Side Project di Roma. Laura è romana ma vive da un po' di anni in Calabria a Praia Mare per scelta e adesso ci racconterà un po' della sua storia perché con la Blunt Side sta facendo veramente tanto a livello sociale. Poi è impegnata su tantissimi fronti e il programma, il titolo di questo programma, Laura per tutti, è effettivamente un titolo che è tutto un programma. E poi parafrasa un po' quello che è uno spettacolo teatrale che è stato presentato in anteprima nazionale quest'estate, alla quale sono stato onorato di partecipare. È uno spettacolo molto bello perché non fa altro che ripercorrere la vita di Laura stessa e le sue battaglie. E oltre ad essere umanamente toccante spiega come in qualsiasi circostanza della vita si può comunque restare in società, nonostante tutte le difficoltà, dare energicamente il proprio contributo. Chiudo questa presentazione di Laura ricordando che alle scorse regionali qui in Calabria è stata candidata da lista Bonino Pannella. È stata iscritta anche a Radicali Italiani per cui è una compagna radicale, critica. Critica nel senso positivo e così come si deve essere anche in area radicale. Laura, prima di tutto benvenuta. Come stai? Che tempo fa a Praia visto che oggi siamo inondati da informazioni, da alluvione totale? Ciao a tutti. Ha piovuto però adesso il tempo sembra più calmo. Probabilmente ricomincerà questa notte, non lo so. Però il tempo è sicuramente peggiore al nord da quello che mi risulta. Quindi è sopportabile questa pioggerellina. Sì, infatti, guarda, quello che sta facendo l'informazione è Genova e tutto il resto. Diciamo che sembra che adesso si debba alluminare l'Italia. Certo quello che è successo a Genova è sicuramente molto grave. Il rischio idrogeologico in Calabria lo avvertiamo e lo capiamo molto bene. però da lì a fare quasi del terrorismo meteorologico. Insomma, il problema dell'informazione, questo di cui abbiamo parlato adesso, il tempo che si lega all'informazione, non è completamente strano dai ragionamenti che dobbiamo fare in questo spazio, perché ad esempio l'informazione gioca un ruolo fondamentale in tantissimi campi. I primi ad essere colpiti, i primi fra i tanti ad essere colpiti dalla cattiva e della denegata informazione, c'è anche il popolo dei disabili. Tu cosa ne pensi? Ma io penso, scusa se ti devo contraddire, non sono d'accordo sul fatto che ci sia terrorismo per il discorso del meteo, perché c'è anche questo passaggio di un asteroide nella notte tra l'8 e il 9, che nessuno considera. Ed è un asteroide enorme. Questo provocherà probabilmente delle correnti, dei movimenti comunque, delle vibrazioni sul nostro pianeta, perché ci sfiorerà, sarà anche visibile per chi potrà. Queste sono cose che si sanno, la NASA le ha sempre diffuse, l'ultimo c'è stato nel 1976, quindi non mi sembra che sia stato puro terrorismo avvertire e mettere panico. Il problema è che da momento all'altro, se qui viene una pioggia un po' più violenta, tipo quella che c'è stata a Genova, dobbiamo considerare la deforestazione che ogni estate viene fatta con gli incendi. e insomma il problema è anche quello, magari non si muore allagati, ma si rimane sotto il fango e non sarebbe la prima volta in questa regione. Sono sicura che come viviamo il disagio, noi disabili rispetto a queste circostanze lo vivono anche le persone normali però. Certo, per noi diventa un po' difficile magari la mobilità, se bisogna scappare, se bisogna comunque prendere dei provvedimenti all'ultimo secondo, perché qui si parla di attimi e neanche più di minuti. Quindi non lo so, io personalmente non sono terrorizzata, sono cose che si stanno da molto tempo. La cosa che mi stupisce è che in tutto questo tempo nessuno si sia preoccupato di prendere provvedimenti. Questo qui è verissimo, la mancata manutenzione soprattutto e il rischio eterogeologico in tutta Italia, poi dopo porta alle tragedie di questi giorni sicuramente. Però guarda, sul discorso, io ritornerei un po' sul discorso dell'informazione per portare il ragionamento all'oggetto della trasmissione, perché questa trasmissione, che molto probabilmente diventerà un format, secondo le tue disponibilità di tempo, diventerà un format, se vorremmo, fisso di TV radicale, perché c'è bisogno sempre di più di parlare e quindi di informare su una disabilità, perché ad esempio, per citarne una, il cane guida. Chi ne sa e cosa si sa? Come siamo messi, Laura, con il cane guida? Ci vuoi spiegare che cos'è questo cane guida e quali sono le leggi che, diciamo, non proteggono, quali sono le leggi che regolamentano il cane guida e a che cosa serve soprattutto? Il cane guida è un cane da lavoro, rientra nella categoria dei cosiddetti cani da lavoro ed è già questa una categoria sconosciuta in questa nazione, perché in questa nazione si parla molto di animali, di cani soprattutto e soprattutto in questa regione si prendono pochi provvedimenti, ad esempio per il randaggismo. Io personalmente sono reduce da poco tempo da un'operazione alla colonna vertebrale per un'aggressione di tre cani randaggi e ho dovuto subire sei mesi di carrozzina per due vertebre spezzate, quindi questo è un problema. Al di là di questo, che poi magari ne parleremo un'altra volta, esistono i cani da lavoro e nella scaletta gerarchica di importanza il primo è il cane guida, è un cane guida, è un cane da lavoro perché comunque guida il disabile visivo. È tutelato da una legge, il suo lavoro è tutelato da una legge, a parte che va rispettato, ma questo credo che non serva una legge, però nonostante ci sia una legge dal 1974, è la numero 37 del 14 febbraio del 74, è una legge sconosciuta, quindi spesso noi disabili visivi vi rinunciamo a questo prezioso ausilio vivente che tra l'altro sostituisce la nostra vista, i nostri occhi, semplicemente per evitare risse e veramente umiliazioni continue, perché a me è successo soprattutto di recente, insomma anche in posti dove meno te l'aspetti di essere cacciata perché i cani non sono ammessi, ma il cane guida entra ovunque, perché sarebbe come dire a una persona che ha una disabilità motoria ed è costretto su una carrozzina, dire guarda puoi entrare ma lasci fuori la carrozzina, è un ausilio, purtroppo non c'è informazione, giustamente come dici tu l'informazione è fondamentale, noi la stiamo facendo con la Ollus che ho fondato nel 2006, la Blanzai Project, ti ringrazio di averla ricordata perché è stata l'unica e la prima a fare una campagna informativa che è presente nel nostro sito, consiste in locandine da scaricare, qualche negoziante ha cominciato ad affiggerla nel proprio esercizio pubblico perché tra l'altro c'è anche una sanzione, se il negoziante, se anche il laboratorio di analisi, anche in ospedale, io sono stata di recente ricoverata a luglio per questo intervento e al San Filippo Neri di Roma, sono stata io che ho scelto di non portarlo perché ero in un reparto particolare di persone operate al cervello, era neurochirurgia, ma altrimenti il cane poteva stare con me e questa è una cosa che va diffusa perché non possiamo tra l'altro staccarci da questo cane, io faccio tutto con questo cane. Una domanda, come si riconosce il cane guida? È chiaro, noi che ci conosciamo ti faccio magari delle domande banali, però è chiaro che il lavoro che stiamo facendo in questo momento è quello di informare e spesso c'è bisogno di informazioni proprio di base per chi ci sta ascoltando e per chi soprattutto ci seguirà su internet perché questa trasmissione sarà poi pubblicata sul nostro sito internet e resterà lì. Dico pure un'altra cosa, questo ti do una informazione di servizio, noi siamo una tv assolutamente interattiva, abbiamo una chat a nostra disposizione che io ho qui, che sto seguendo, per cui se qualcuno vuole fare delle domande lo invito a farlo perché tramite me te le rivolgerò a Laura. Quindi come si riconosce un cane guida? Il cane guida intanto ha una bardatura, la cosiddetta pettorina e questa manopola alla quale noi siamo attaccati perché nel disabile visivo noi c'è chi non decidiamo nulla se non la meta, è il cane che decide che strada fare, come farla, come evitare l'ostacolo, sia alto che basso. Insomma diciamo che di solito ci aspettiamo da parte del vedente un minimo di attenzione e di uso di questa grande possibilità che è la vista. Devo dire purtroppo che spesso non viene usata dal vedente e ci troviamo addosso persone che ci dicono scusa non t'avevo vista o cose del genere, mi salgono sopra il cane, spesso ci si mettono a giocare, cosa che tra l'altro Marco nessuno si permetterebbe mai di fare con un finanziere e il cane antidroga, lì magari si assiste e si rispetta il lavoro forse per timore, non lo so, la divisa, questo non te lo so dire, ma mentre viene molto rispettato il cane da lavoro che lavora con le forze dell'ordine, il più importante, ripeto, tra i cani da lavoro che è il cane guida per disabili visivi è oggetto di carezze, di giochi, di quanto è bello lo posso accarezzare quando lo chiedono e questa è una cosa che non va fatta perché il cane tra l'altro vive una tensione in mezzo a tanti ostacoli e a tanti vedenti così distratti, il suo compito principale è quello di riportare a casa in colume questo suo padrone che non vede e di fargli fare la vita normale che fanno tutti, ovviamente evitando tutta una serie di ostacoli che altrimenti il disabile visivo non potrebbe fare. Quindi il cane guida non si riconosce intanto perché il cieco diciamo di solito dovrebbe avere il bastone bianco e il bastone bianco tra le altre è un altro ausilio che in Italia è completamente sconosciuto, neanche nelle autoscuole viene diffusa questa cosa, raramente si sa che il bastone bianco ha la precedenza ovunque, anche sul marciapiede, perché un cieco può attraversare anche con un semaforo rosso, ovviamente non può sapere se è rosso o se è verde, addirittura mi posso orientare, se sto in una città come Roma forse dai rumori sento fermare tutte le macchine insieme, però insomma se disgraziatamente mi scatta l'arancione o mi scatta il verde a metà dell'attraversamento, si deve sapere bene che si sappia che il bastone bianco del disabile visivo ha la precedenza ovunque, sia sul marciapiede che sulla strada e questo vale sia per i titoli che per gli automobilisti, dimmi. Laura, che tu sappia che tipo di formazione viene fatto ad esempio nelle scuole guida proprio su questo aspetto, ti risulta che ci sia formazione anche perché sai quella scuola guida è quella strana cosa che tu fai a 18 anni e poi ti porti la patente fino a quando puoi, però ad esempio io ho dimenticato completamente tutto quello che si diceva quando ho preso io la patente, intanto ti informo che Gina sta tessendo le tue lodi e ti saluta perché ti sta seguendo. Beh, la saluta anche io, grazie. Gina è una ragazza calabrese molto in gamba. Bene, ti sta ascoltando per cui ti sta seguendo. Ti risulta che sul canne guida e su queste norme comportamentali per cui l'uso del bastone da parte dei ciechi, dei non vedenti, ti risulta che ci sia formazione adeguata nelle scuole guida? No, no, ti dicevo prima assolutamente, è una cosa purtroppo che devo ammettere personalmente, io ho 51 anni quindi fino al 2003 ho guidato, fino al 2002 ho guidato prima dell'incidente, io ho avuto un incidente stradale appunto, però ho guidato e ho cominciato a guidare a 18 anni, tra l'altro amavo guidare ed ero un'appassionata sia dei motori ma anche di sicurezza stradale, già da prima. Il problema è che a me personalmente nessuno mi aveva mai parlato di bastone bianco e nessuno mi aveva mai parlato di canne guida, io sapevo cos'era un canne guida, sapevo che un cieco camminava con il canne guida, però non avevo altre informazioni e che mi capitò di accarezzare un canne guida, mi ricordo che ero ragazza a Via Tagliamento a Roma e un cieco reagì malissimo, giustamente mi disse che prima di toccare le cose degli altri comunque avrei dovuto chiedere e che comunque un canne guida non si tocca mai, perché sta lavorando. La lavorante in quel momento lì lo si può distrarre, in quel momento là si è affidati a quello che sono i sensi del canne guida, per cui se il canne guida sbaglia l'errore ricade direttamente in chi ci sta dietro, questo è assolutamente comprensibile. Marco un canne guida, scusa se ti interrompo, un canne guida difficilmente sbaglia, il problema è che può reagire male con chi lo disturba, è un po' diverso, il vedente forse l'umano può sbagliare, il cane guida difficilmente sbaglia, a meno che non sia veramente ormai decrepito, vecchio di 100 anni e magari potrebbe avere un po' di arteriosclerosi, ma il cane guida non sbaglia mai, vive 24 ore su 24 per l'incolumità e lo fa con piacere, al di là dell'addestramento, vive con il suo padrone, il cane lo sente come tutti gli animali, sentono se una persona vede o non vede, perché i cani come tutti gli animali hanno queste sensazioni interiori, invisibili e gli consentono di percepire il disagio, la paura, capiscono anche il carattere del padrone, gli vanno incontro in molti modi, quindi difficilmente un cane guida sbaglierà, semmai potrebbe reagire male agli errori, agli sbagli degli umani e dei vedenti. Certo, c'è Stefano Russo dalla chat che ti pone una domanda, il cane guida è un cane felice? Il cane guida è un cane felicissimo, ovviamente tutto è rapportato, poi è tutto relativo, se il cane guida, ci sono delle cose da sapere, se vuoi ne parlo 5 secondi. Sì, abbiamo tutto il tempo. Allora, in Italia abbiamo due importantissime scuole per cane guida, c'è la scuola guida nazionale, quella riconosciuta dallo Stato, che è la scuola di Scandicci e poi c'è un'altra scuola che è all'imbiate e a differenza di Scandicci che addestra soltanto i cani del loro allevamento o comunque di loro proprietà, addestra anche i cani di proprietà del disabile visivo. Ora, la differenza è questa ed è fondamentale, un cane guida, un cane normale che naturalmente per diventare cane guida e per avere il suo riconoscimento deve comunque aver compiuto un anno, cioè non può essere cucciolo e l'addestramento viene fatto tra un anno e un anno e mezzo. di solito vengono presi questi cuccioli dagli allevamenti, ovviamente sono cuccioli selezionati perché il cane deve essere super sano e in piena salute e vengono affidati a queste famiglie volontarie che lo crescono fino a un anno. Capiamo bene insieme che questo cane avrà comunque degli affetti da cui si dovrà distaccare, quindi ora non ti so dire realmente se il cane è poi felice lasciando i veri padroni e trovarlo in Roma, questo dipende anche dal nuovo padrone. C'è una mia amica che tra l'altro ci sta ascoltando da Roma e lei ha avuto il cane all'imbiate e il cane è felicissimo, nonostante l'abbia preso che era già grande di un anno, un anno e mezzo. Questo naturalmente dipende un po', come dire, è felice un figlio se sta con la mamma? Dipende dalla mamma, questo è chiaro. Solitamente sono cani felici, di solito sono cani che si sentono molto più appagati perché il cane è contento se lavora, un cane viziato che è un cane da compagnia che non fa niente della mattina da sera rischia solo di ingrassare, di ammalarsi e di essere antipatico con gli altri. Comunque a un cane bisogna dargli un compito, ecco. Assolutamente, la Blanzai Project ha un'iniziativa che è in corso da quello che ricordo proprio sul cane guida, ce ne vuoi parlare? Sì, sì, dicevo prima c'è questa campagna informativa, io invito tutti, tra l'altro noi in questi giorni ci saranno un po' di disagi nel sito della Blanzai perché stiamo passando su un'altra piattaforma per renderlo più accessibile, poi tra virgolette questo è un altro problema che mi piacerebbe affrontare ma tanto se ci sentiremo tutte le domeniche insomma non mancherà il tempo e sarà parlare un attimo di accessibilità nel web. Oggi mi fa piacere parlare di questa cosa che è il cane guida perché tra l'altro è l'animale più importante che ho avuto nella mia vita nonostante sia così vicino a questa drammatica disabilità che mi è sopraggiunta per un incidente stradale, ecco, tra l'altro manco per colpa mia per un distratto che non mi ha vista e ha fatto una retromarcia. ma insomma al di là di questo c'è una campagna informativa perché io quando ho avuto il cane mi sono resa conto che non solo non sapevo niente io ma non sapeva niente nessuno perché probabilmente in questi anni nessuno ha voluto mai informare o se l'ha fatto o l'ha fatto male e quindi e questo purtroppo mi tocca ammetterlo è una realtà, non si può nascondere la realtà, soprattutto ai disabili sensoriali perché noi disabili sensoriali e cioè i disabili visivi e i disabili uditivi che non amiamo molto essere chiamati non vedenti, insomma come dicevi tu se una persona vede poco è un ipovedente ma se non vede niente è cieco, sono cieca e basta, è inutile girare intorno al political correct, non sono diversamente abile, sono semplicemente disabilitata da una funzione e quindi sono disabile, quindi non sono né handicappata né diversamente abile né altrimenti invalida, sono disabile, sono cieca e come il sordo muto, i sordi hanno fatto una battaglia, non vogliono essere chiamati sordo muti, sono sordi, non udente, non va bene. Comunque al di là di questi vocaboli c'è questa campagna che è molto importante perché tra l'altro elenca tutte le leggi e soprattutto la multa, perché spesso mi sono trovata a chiamare soprattutto a Roma, questo lo devo ammettere, nella capitale, a chiamare l'igile, il poliziotto, il carabiniere per entrare in un negozio che mi aveva cacciato via e il carabiniere magari ingenuamente ma non conosceva la legge e quindi magari ci si sente dire a noi che abbiamo fatto la scelta di essere autonomi, la disabilità che portiamo addosso, una disabilità gravissima, è al primo posto perché le disabilità settoriali sono le più importanti e sono le più gravi, quindi chi se ne intende un po' di assicurazioni sa quali sono nella scaletta dei pagamenti poi quelle che costano di più. Scherzi, parli con un tecnico. Prego? No dico scherzi, parli con un tecnico delle assicurazioni, ne so qualcosa. L'ho detto apposta, l'ho detto apposta, perché molti pensano che è molto più tragico non camminare, è tragica la disabilità, il problema è che, scusa, questo lasciamelo dire, è tragica in Italia e in questo Marco tu hai aperto questa bella chiacchierata con un discorso politico, però vorrei per inciso sottolineare che la disabilità non ha colore politico e quando si parla di disabilità non c'è partito che tenga perché di colori in questo governo ne sono cambiati molti, ma ogni anno è peggiorata la situazione per i disabili italiani, a cominciare dal nomenclatore tariffario che è fermo al 99, quindi ogni ausilio viene pagato, retribuito, rimborsato, ammesso che succeda ancora perché ci sono regioni che neanche lo fanno più, in base a un nomenclatore della protesica che è fermo al 99 e quindi un bastone per un cieco che costa 100 euro, fai conto, viene rimborsata la somma di 8 euro perché non è previsto il bastone che si è voluto, sono fermi al bastone di legno, quindi non c'è politica quando si parla di disabilità, la politica dovrebbe interessarsi a migliorare la nostra qualità della vita, ecco questo sicuramente. Tornando al cane vita c'è una campagna che io invito tutti a diffondere e dicevo purtroppo in questi giorni ci saranno un po' di disagi perché stiamo trasferendo il sito, però la campagna c'è e le locandine ci sono, si possono scaricare, quindi magari banner aspetterei un pochino, però per le locandine si può cominciare a scaricarle, a diffonderle, chi può fotocopiarne un po' per far sapere soprattutto che c'è anche un'altra legge in Italia che obbliga i padroni, i proprietari di ogni cane a tenersi a guinzaglio, la legge impone un guinzaglio non più lungo di 150 cm, il cane non soffre se sta al guinzaglio perché stando al guinzaglio riconosce un capobranco, se non riconosce un capobranco quel cane è un cane che è in pericolo lui e sono in pericolo tutti coloro che gli girano intorno, soprattutto i ciechi col cane guida che passano. Certo, guarda dalla chat arrivano due domande, una che è abbastanza complessa alla quale rispondere, ma complessa ti spiego la ragione perché sarà poi dopo proprio dedicata una o più puntate su questa cosa qua, la pone Gianni Colacione che è il direttore di TV Radicale e domanda questo, ci sono ausili tecnici per internet e per i ciechi disponibili in Italia? Quali e a che condizioni? E poi c'è Claudio Scaldaferri che ti domanda come ti sei trovato a Praia? Quali differenze con Roma? A me sembrano interessanti tutte e due, prenditi per la risposta tutto il tempo che vuoi, anche perché è chiaro che aggiorneremo questa trasmissione ad una delle prossime domeniche, se non già secondo la tua disponibilità domenica prossima, poi ci metteremo… Ma sai che c'è, che appunto siccome c'è tanta disinformazione più se ne parla e meglio è, avere questo spazio io vi ringrazio molto, è una cosa enorme perché tra l'altro si riesce a… noi abbiamo dovuto togliere la radio dal nostro sito per mancanza di fondi perché la nostra è un'associazione che vive di volontariato nonostante tutti gli eventi che potete vedere e sono stati realizzati finora, ma è tutto basato sul volontariato e quindi noi naturalmente non potevamo permetterci ancora perché una volta avevamo anche una radio web, spero di poterla riattivare, naturalmente questo dipende anche dai sostegni, però al di là di questo la prima domanda è questa, era quella sugli ausili e rispondo molto molto volentieri, allora noi come in questo momento io ho potuto far tutto tramite un programma parlante, ora parlo in maniera accessibile per i vedenti, ma anche per coloro che non sono bravi in informatica, allora si chiama screen reader e significa lettore di schermo ed è praticamente un programma, naturalmente bisognerà installare prima una sintesi vocale nel proprio computer e tramite questa sintesi vocale io posso leggere, cioè ce l'ho in audio se volete ve lo posso fare anche ascoltare. Si volentieri, guarda sarebbe utile per i nostri web ascoltatori. ecco. Poi fra l'altro questo programma è croce delizia perché se trova un sito poco accessibile anche un po' come il nostro sito di VU Radicale e su questo ti informo in diretta che in una delle prossime riunioni che avremo la prossima settimana c'è proprio già in progetto la versione 2.0 del nostro sito per cui ci sforzeremo di renderlo il più accessibile possibile. Ti ringrazio molto. E ti assumeremo volentieri come consulente. Diciamo che questo lettore è croce delizia perché quando incontra un sito non accessibile ti fa perdere addirittura più tempo perché ti legge un sacco di cose inutili. Non solo mi fa leggere cose inutili Marco ma non mi fa navigare. Non ti fa navigare. Mi può anche non far navigare perché magari potrei trovare molte pubblicità in flash che magari potrebbero impallare sia lo screen reader che il computer stesso. Esatto. Guarda, se ci fai ascoltare, ci puoi far ascoltare com'è che funziona così il web ascoltatore. Adesso per esempio io per andare intanto tutti i comandi sono da tastiera ovviamente perché io non vedendo lo schermo devo usare la tastiera. E naturalmente ci sono tutta una serie di combinazioni di tasti, i cosiddetti tasti scorciatoie certe volte li chiamano i vedenti, comunque sono combinazioni di tasti che mi consentono di passare da una finestra all'altra eccetera. Passaggio da un programma, Roberto, Calabria Radicale. Ecco questa che si è probabilmente sentita, non lo so se l'avete sentita, io sono pure mezza sposta. No, no, si è sentita. Ecco allora questa che avete sentito è praticamente la sintesi vocale installata nel mio computer che io ho dato un cambio di pagina, cioè come passare da una pagina all'altra e mi sta dicendo che io sto parlando con Calabria Radicale e con Roberto in chat con una videochiamata probabilmente. E quindi adesso ve la faccio risentire. Scrive sotto menu, stato in linea sotto menu, stato in linea menu in linea, assente, occupato attivato non disponibile. Ecco io sono occupata naturalmente in questo momento e questa è la sintesi vocale. io tutto ciò che è internet, cioè navigazione, scrittura, lettura, ma anche nei chat e tutte queste storie qui, lo facciamo tramite questi screen reader. I più famosi e più usati nel mondo sono due e sono JAWS e NVDA. Io uso NVDA con questa voce gratuita che si chiama Silvia perché ogni sintesi vocale ha praticamente un nome, ma queste sintesi vocali nessuno sa che sono le stesse che molti di voi ascoltano in una stazione ferroviaria. La voce dell'uomo si chiama Roberto, la voce della donna spesso è Giulia e quelle sono voci molto care. Tornando al discorso di come ci si arriva ad avere questi ausili, io uso NVDA perché è uno screen reader che ha le stesse possibilità di JAWS, però è gratuito, è un open source e quindi praticamente io non lo pago, è in continua evoluzione e posso essere collegata al mondo reale, posso essere come prima, certo naturalmente non vedo e non scrivo con gli occhi, però questo programma mi consente di poterlo fare ancora in altro modo. JAWS invece in Italia è a pagamento e anche abbastanza a pagamento perché costa intorno ai 2.000 euro, in più se uno non vuole la sintesi vocale che è compresa con lo screen reader che non è un granché, è una voce che a me personalmente non piace, si dovrebbe comprare a parte il pacchetto di sintesi vocali, che sono appunto quelle della stazione ferroviaria, sono intorno ai 400-500 euro e l'Aster non rimborsa tutto, questo è bene che si sa. Quel signore dei ristoranti pieni che praticamente dovrebbe governare, che passa il governo come contributi per l'acquisto di questi ausili? Allora quel signore intanto dovrebbe dare un'occhiata fuori dai ristoranti pieni, perché i ristoranti saranno anche pieni, il problema è che fuori dalle vetrine si è riempito di gente affamata e su questo pianeta siamo tanti, quindi non deve guardare la quantità in una piccola sala di ristorante, guardarsi quella che c'è fuori in una piazza, perché fuori forse sono molto più numerose le persone che non riescono neanche ad entrare in quel ristorante, non perché è pieno, perché non hanno proprio i soldi. Io personalmente da pochi mesi ho dovuto subire una cosa spaventosa, è stata insomma veramente una coltellata, io sai che oltre ad aver perso tutta la vista, io sono cieca assoluta, ho anche una sordità progressiva e ora sono a più della metà dell'udito perso. Naturalmente avendo due tipi di sordità, te la faccio breve, fino a poco tempo fa qualsiasi protesi potevo mettere non andava bene, perché una andava in conflitto con l'altro tipo di sordità. Ora che è successo? Che da poco tempo ci sono queste protesi un po' più moderne, si sono evolute, ho fatto la prova di un mese con delle protesi acustiche, wifi a tre canali, che mi consentivano di avere anche un filtro dei rumori di fondo, non ho altri termini, è proprio un gran casino in testa di rumori, però io nonostante mi facesse lo sconto, nonostante Oliva agevolata, prima era il 4 adesso l'hanno portata al 5, ma cambia poco, sempre me la fanno pagare. Nonostante il rimborso della Asla di 600 Euro, perché ti danno 300 Euro a protesi, dovevo metterci sopra di mio 3.000 Euro e non ho potuto, perché vivo di pensione. Quella pensione che è proprio quel signore che dice che i ristoranti sono pieni e che spero che quanto prima o si immerga un attimo nella realtà, ma se non hai il coraggio di fare questo, visto che è completamente scollegato dalla realtà italiana, ha anche l'età per andarsene in pensione, secondo me, però ho dovuto restituire queste protesi, non le posso mettere e la mia sordità è progressiva, non so quanto tempo mi rimane ancora per avere quest'altro residuo di udito e lo devo vivere così in una bolla. Tra l'altro è abbastanza drammatica, perché ci metti pure che c'è una cecità completa. Certo, di conseguenza quelli che sono i supporti e i contributi sono assolutamente scarsi e insufficienti, per cui chi ha una disabilità come la tua si deve praticamente arrangiare. Ci sono, la maggior parte delle persone non possono, perché poi chi vive di pensione, c'è la pensione, è quella che è. Immagino che tu avrai un'indennità di accompagnamento, ma per le tue necessità è sempre assolutamente sufficiente. Noi disabili visivi abbiamo l'accompagnamento più alto. L'accompagnamento più alto, esatto. Tra l'altro è una cosa assurda che nei disabili sensoriali ci sia questa differenza, perché io sono anche sorda, infatti la Blanzai Project segue tutti i disabili sensoriali, sia i sordi che i ciechi, è assurdo che un sordo non abbia l'assegno da compagna equiparato a un cieco, no? Loro dicono, no, loro prendono di meno perché loro possono guidare. Allora, intanto la mia pensione totale, non avendo nessun tipo di reddito e nessuna proprietà, quindi veramente da povera, io arrivo a 1000 Euro. Tu direi, beh, 1000 Euro oggi non è poco, ho capito, ma io devo vivere in queste condizioni e non posso fare niente, devo pagare chi mi accompagna, chi mi fa da mangiare, chi mi fa la spesa e insomma non è, mi devo pagare l'affitto, mi devo pagare tutto quello che poi si pagano gli altri. E devo vivere. Ecco, se io viaggio non ho sconti sul treno, ho un ridicolo, grottesco sconto del 19%. Se viaggio da sola, se viaggio da sola, io ho il 19% e non posso più guidare. E ti dico, anch'io ero convinta che c'è chi non pagassero nulla. Perché sono i disabili proprio che non possono guidare. Noi paghiamo, paghiamo tutto. Aspetta, ti dico un'altra cosa. In questa regione, in Calabria, visto che parliamo da qui, da Calabria, allora, in Calabria io mi sono sentita dire, quando mi sono dovuta, avevo perso il cellulare, insomma tutta una serie di cose. Ho dovuto ricomprare il cellulare. E con il cellulare avevo perso anche il programma parlante, il mobile speak. Oggi l'hanno, per fortuna, adeguato a questa cosa. E cioè, non va più con il cellulare, ma va con la sim. Prima andava con l'apparecchio. Tu perdevi l'apparecchio, ti si rompeva. Dovevi ricomprarti tutto. E io mi sono sentita dire, quando ero dovuto ricomprare il programma, che non potevo soffrire delle agevolazioni, delle asle, perché la Calabria non ha mai pagato. Quindi le aziende non mi facevano pagare. Non mi facevano sconti. Non mi davano le agevolazioni. Ecco, perché l'azienda sanitaria calabrese pare che abbia una serie di debiti. E quindi le ditte, le aziende che vendono di questo, ti dicono, senti, o tu lo paghi per intero o cambi residenza. Perché se sei residente in Calabria noi non possiamo. Dalla chat, Gina chiede dell'assenza spesso dei vagoni per disabili. Quindi, non lo so, sui treni, piuttosto che sull'autobus, come siamo messi? Vorrei fare una puntata a parte. Su questo ringrazio Gina, tra l'altro compagna di Sventura in un viaggio da Praia a Roma. Siamo partite alle 16 e qualcosa e siamo arrivati a mezzanotte a termini. Ma questa diceva, va beh, c'è stato un problema, c'era la luminosità. Piovine a Genova. Ma qui è quasi sempre così. Allora, intanto non c'è più un treno diretto. Bisogna sempre cambiare per il nord, bisogna sempre cambiare o a Roma o a Napoli. E questa è una cosa grave che nessuno considera, perché spesso qui i trasporti sono solo su gomma, cioè su strada. Ma una come me, che non ha l'aeroporto vicino, perché qui non c'è un aeroporto. Devo fare avanti e indietro con Roma o con l'Italia per lavoro, perché sono presidente di un'associazione di categoria. Io comunque sono costretta tutte le volte ad arrivare a Roma e poi da lì prendere l'aereo, prendere altre cose. Però da Praia, e tra l'altro parliamo di Praia, quindi sto al confine con la Basilicata. in tanti ritardi. Ma hanno cancellato l'unico treno diretto che parte da Reggio Calabria e arriva a Roma. Ed è un treno diretto, cioè mi fa salire a Praia e mi fa scendere a Termini. Per me è una mano santa, salgo con il mio cane e scendo con il mio cane. Non esiste più la carrozza di Sabini. Perché? Perché questi treni, queste vetture sono intersiti, sono state sostituite con le vetture, tenetevi, state seduti con le vetture del 1986, i vecchi Eurostar che facevano Roma a Bologna. Tra l'altro inadeguati anche per i marciapiedi di Roma, perché hanno queste scaline molto alti e ogni tanto qualcuno si ammazza, pure se vede, insomma, se vedente. E l'unico treno diretto non è attrezzato per i disabili. Quindi io sono costretta intanto a pagare di più, a prendere due treni, a scendere o a Sapri o a Napoli, che, insomma, un cambio di treno non è uno scherzo al buio, col bagaglio, eccetera. E poi qui bisognerà fare una puntata a parte sull'assistenza di Trenitalia per i disabili, che nessuno sa che ha pagamento. Ah, quindi si apre tutto un capitolo e lo dobbiamo assolutamente dedicare questo capitolo, lo dobbiamo aprire questo capitolo. Sono i disabili sensoriali, ci sono tante cose da sapere. Volevo rispondere a Claudio, che ha fatto una domanda abbastanza intelligente. Come mi sono trovata a Praia? Com'era la domanda? Me la puoi ripetere? Beh, la domanda era come ti sei trovata a Praia, insomma, visto che prima vivevi a Roma. Ci sono però i conti. Cioè, come sei arrivata, insomma, a Praia. Non tanto come si vive, ma come sei arrivata a Praia da Roma. Come ti sei trovata a vivere a Praia? Ecco, io non l'ho scelta la Calabria. La Calabria è arrivata per caso nella mia vita, soprattutto Praia. Perché, naturalmente, dopo un incidente in Italia non si perde soltanto la vista. C'è chi perde una gamba, c'è chi perde... Perdi tutto. Perdi tutto. Io ho perso tutto. Ho perso la casa. Ho perso tutto. Ho perso il lavoro. Io non ho più niente. L'unica cosa che mi è rimasta è una famiglia, un figlio e un cane guida. Poi c'è anche il capitolo della sicurezza stradale che dovremmo aprire. Quindi hai voglia di cose? Marco, siamo una domenica a settimana, quindi se non sbaglio sono quattro settimane al mese. Quindi voglio parlare. C'è molto da dire. C'è molto da dire e tra l'altro io sono contenta che ci siano persone da ascoltare. Perché il fatto che parli una persona che vive in un'altra dimensione e cioè che vive il buio, che vive la sordità, questa bolla e quindi vive la disabilità sensoriale, spesso non abbiamo tutto questo spazio. Anche questo, tra l'altro, è una cosa anche sul lavoro. Noi ciechi siamo un'enorme risorsa, soprattutto per le radio, come opinionisti in una tv eccetera. Idemi sordi nelle tv come cameraman, come fotografi. Perché siamo le persone più, forse non essendo inquinati né dai suoni, quindi un'ottima immagine, né dalle immagini, quindi ottimi suoni. Né dal mio caso, insomma, di entrambe le disabilità. Io parlo di giovani ovviamente. C'è qualcuno che ancora insiste con i corsi al centralino. E gran parte dei ciechi italiani sono chiusi in un centralino. Tra l'altro già come oggetto obsoleto e anacronistico. E questo tra l'altro vorrei, visto che c'è la bellezza di questa tv e che c'è la libertà di poter parlare, mi viene di fare una domanda, anzi invito gli ascoltatori e chi ci sta seguendo magari ad informarsi. Perché ognuno poi potrebbe avere un'informazione diversa in merito. Di recente in Calabria sono stati stanziati 5 milioni di euro per una stima fatta su 5 mila disabili visivi nella regione Calabria. Ora questi soldi sono stati destinati a una sola associazione o meglio ancora, alla sede provinciale di un'associazione che ha naturalmente un tessuto nazionale, che è l'Unione Italiana Cecchi. Vorrei sapere se con questi 5 milioni di euro sono già stati creati posti di lavoro e se si quali. Perché finora nessuno ha saputo più niente. Sappiamo solo che sono partiti 5 milioni di euro, solo per la regione Calabria, nella provincia di Cosenza. Siccome, ripeto, io sono anche presidente di categoria oltre ad essere una disabile sensoriale... Scusami, scusami Laura, questa sottolineatura che stavi dicendo si lega un po' a una domanda di Donato Volpicella che in effetti chiedeva questo. Laura, qual è il ruolo delle grandi associazioni dei disabili? Eh, questo! Quello dei milioni di euro e tra l'altro sarebbe bello capire dove vanno a finire, perché finora nessuno sa nulla del cane guida. La facciamo noi di Blanzai Project la campagna informativa e la facciamo a volontariato, è tutto volontariato, siamo volontarie. E tutto questo pesa sul lavoro delle persone che mi aiutano e che ringrazio e soprattutto sulla mia pensione. ne vogliamo parlare, su quel poco di 5 per mille che finalmente comincia ad arrivare, ma sempre se qualcuno ce lo destina questo 5 per mille, perché insomma, poi quanto vuoi che arriva? Non è che ti arrivano, appunto non è mai arrivato un milione di euro, la Blanzai il giorno che gli arriverà un milione di euro lo capirete, lo capirete sicuramente. E poi i tempi soprattutto, i tempi anche fino a quando arrivano questi soldi? Perché non è che uno dice, cioè è facile dire 5 per mille però fino a quando arriva... Beh, noi quest'anno abbiamo preso quelli del 2008 mi pare, 2008-2009. Adesso io faccio un bel po' di casino con le date, con i calendari non vado molto d'accordo, però credo sia il 2008 o 2009, sì forse il 2009. Il discorso che non si può vivere di 5 per mille, perché a meno che non mi dà il 5 per mille Berlusconi, allora grazie, ma il 5 per mille sai di solito viene dato da persone che non hanno, insomma parlavamo prima di fame, quanto 5 per mille vuoi che ti arriva, dalle persone oneste, da persone che lavorano, da un italiano medio che è fortunato ancora ad avere ancora un posto di lavoro. Allora, perdonami, ti interrompo di nuovo perché noi abbiamo questa regola che le domande dalla chat hanno la priorità e vabbè Gianni Colaccione che ti chiedeva anche se può farti una domanda più di carattere personale, di che cosa ti occupavi prima come lavoro, poi diceva non so se ne sia già parlato, il cane guida è fornito da qualche struttura, quale ci sono costi e poi c'è l'americano che fa una domanda un po' provocatoria, ma perché tutto finisce sempre così nella richiesta di soldi? Vabbè, quello chiediamolo a tutti gli italiani quando vanno a votare, bisogna pensarci prima di andare a votare, perché insomma abbiamo questa, poi anche lì c'è da aprire un altro discorso, quanti voti realmente vengono presi in considerazione e quanti invece vengono venduti, questo è un altro discorso. Sul discorso del… scusami, fai l'altra domanda perché me ne fate tre insieme? Sì, lo so, Gianni ti chiedeva se ti poteva fare una domanda a carattere personale, che lavoro facevi prima? Io mi occupavo di sicurezza prima e non amo molto parlare del mio lavoro e della mia vita precedente, perché comunque dopo un incidente si sopravvive, come nel mio caso, e si ha la forza, soprattutto la fortuna di avere questo carattere che non consente limiti e soprattutto ristrettezze, pietismi, abbattimenti, insomma io sono una positiva di natura, perché? Perché guardo la realtà in faccia, infatti ti dico, guarda non è terrorismo meteo, c'è un asteroide enorme quanto il pianeta Terra che ci sta sfiorando, è una realtà, quindi non è catastrofismo, è semplicemente una realtà. Vivendo la realtà riesco ad essere positiva. Mi occupavo di sicurezza, sono stata un'investigatrice privata, ho fatto questo lavoro in modalità segreta e quindi insomma non amo parlarne per questo motivo. Però ecco, se non avessi fatto questo lavoro, se non fossi stata una persona molto allenata, se non avessi fatto molto sport, non solo sarei morta, ma per un cretino che non ha visto chi passava dietro mentre retrocedeva con la Mercedes, ma non avrei probabilmente avuto la capacità di orientarmi, di reagire, di sopravvivere ad ogni circostanza, anche la più pericolosa. Fondamentalmente sono una persona che non ha paura, questo è molto importante, non ho paura di niente. L'unica cosa che mi spaventa un po' è l'ignoranza, questo si, il pregiudizio e l'ignoranza. Quelle sono due cose che mi fanno un po' timore. Per il resto, per fortuna, sono una che non ha paura di niente. Beh l'ignoranza che colpisce, forse uno dei mali peggiori di questo nostro paese. Non sono le barriere architettoniche, per cui soprattutto al sud hanno stanziato miliardi, non è lo scivolo che serve, capisci? Ci sono le barriere sensoriali, ci sono le barriere mentali innanzitutto, perché la disabilità, scusa, ti chiudo questa cosa, la disabilità è grave in Italia semplicemente perché ce la fanno vivere in maniera grave. Il cieco, uscito da qui, ha duemila cose, in Norvegia ti danno, incomodato d'uso, tutto lo screen reader, tutto quello che ti serve se perdi la vista. In Brasile, nelle favela, ti danno, e se perdi la vista o nasce un bambino cieco, ha tutto gratis. Io non voglio tutto gratis, mi voglio pagare il treno, ma fammelo pagare la metà, non mi dare il 19% di sconto, perché uno studente ha il 20%, capisci? Io pago più di uno studente, ecco, e queste sono delle prese in giro, considerando, per tornare alla domanda di prima, che non è vero che i soldi non ci sono, i soldi vengono stanziati e vengono dati alle grandi associazioni di categoria, che sono sempre le stesse, le più conosciute, quelle che hanno miliardi di soci, spesso convertiti sotto campagna elettorale in voti, è tutto un giro, insomma, non è inutile che ne parlo, queste sono cose che si sanno, no? Certo, Laura, guarda, il tempo tiranno ci ha portato a due minuti dal termine della trasmissione, abbiamo toccato soltanto una minima parte di quello di cui dobbiamo discutere nelle prossime settimane, ad esempio tu hai anche un magazine elettronico su internet, il cui titolo è tutto un programma, Orba Moderna. Sì, vabbè, quelle sono le cose che mi vengono in mente, è Orba Moderna, sì, è un magazine dove, ma noi abbiamo anche una cellula di donne, perché? Perché con il grande fermento di se non ora quando, di febbraio scorso, che c'è stato in tutta Italia, che le donne finalmente sono un attimo riemersi da questo buio, in cui anche il berlusconismo aveva buttato tutto il femminile e tutte le donne che hanno superato i 17 anni, perché sotto i 17 anni non c'è problema, diventate 18 anni qui siamo fuori dai giochi tutte, quindi o c'hai il culo a zaino o c'hai 17 anni, altrimenti stai fuori dai giochi. E insomma, con questa abbiamo creato anche una cellula di donne che è entrata a far parte anche delle donne calabresi in rete, insomma hanno aderito molti movimenti, di questo sono molto contenta, perché comunque al di là di tutto la vera situazione molto drammatica che si vive in Italia è quella dei giovani e delle donne e tra questi ci sono anche sia giovani disabili che donne disabili. La realtà di una donna disabile è appunto, come sempre, è la più emarginata, è la più sommersa, è la più sconosciuta. Già sono sconosciute le nostre disabilità, però avremo tempo, io sono disponibile ogni domenica. Benissimo, e sarai nostra graditissima ospite, per cui io chiamo a questo punto la regia di Lecce. Sì Marco, sono qui Marco, è stata veramente molto interessante questa conversazione, volevi aggiungere ancora qualcosa Marco? No, io volevo soltanto salutare caramente Laura, per cui l'avremo qui molto probabilmente domenica prossima. Laura grazie, adesso guarda, per ragioni tecniche la nostra conversazione molto probabilmente si troncherà diciamo in modo... Sì Marco, scusa se ti interrompo, ti interrompo per dire una cosa importante che in parecchie mi hanno chiesto. L'orario probabilmente cambierà, però nel sito della TV Radicale dove stanno ascoltando c'è il palinsesto e ogni domenica sicuro ci sarò. Adesso l'orario probabilmente potrebbe cambiare anche in base ad altri impegni vostri. Assolutamente, anche perché noi facciamo una riunione settimanale per cui avremo modo di accordarci e non solo, noi facciamo la riunione settimanale il martedì per cui poi durante la settimana ci sarà tutto il tempo anche per promuovere su internet questo spazio che ecco l'abbiamo costruito qui in diretta e si chiama Laura per tutti e continuerà a chiamarsi Laura per tutti. Mamma mia quante cose di cui dobbiamo parlare, ne abbiamo soltanto, abbiamo fatto solo l'introduzione dell'introduzione. Laura sei una persona fantastica, grazie e a domenica prossima. Bene, salutiamo Marco Marchese e Laura Raffelli, torniamo nello studio di Lecce, qui diamo la comunicazione con la Calabria ed è questo il...